Roberto, intanto bentornato in campo, siamo felicissimi di averti rivisto nei primi due set sei tornato subito con il thriller, Roberto, partita durissima contro Avenna obiettivo centrato, tanto sofferenza ma l'importante era andare a Bologna Sì, l'importante è andare alla Final Four, partita difficile, loro hanno difeso tanto noi ci siamo innervositi subito, è una cosa che non dovevamo fare dobbiamo mantenere la calma, anche perché le sfide che verranno sono sicuramente lunghe e difficili però l'importante è aver vinto, adesso pensiamo subito alla Final Four Senti, te come stai, come ti sei ritrovato in campo dopo tanto tempo? Sì, all'inizio un po' contratto, però penso sia anche normale poi piano piano mi sono sciolto, adesso voglio continuare a dare il meglio per la squadra sto abbastanza bene, quindi bene così Senti, l'ultima cosa, abbiamo faticato, l'abbiamo detto, abbiamo sofferto tantissimo anche noi a bordo campo, l'importante era arrivarci alla Final Four, dove Perugia vuole cosa? Vuole la Coppa, dobbiamo pensare prima a vincere la semifinale e poi provare con la finale però quello che vogliamo è vincere questo trofeo, ci impegneremo al massimo per ottenerlo Grazie Roberto